Signori, io sono Gianluca, mi si sia appena rotta la sedia, quindi dovrò fare i video in piedi e queste sono le novità della settimana, 18 marzo 2021 Signori, partiamo subito a cannone, pochissime grafiche, la vogliamo fare breve, breve, breve anche perché ormai il format di chiacchiere e la fumetteria sta rubando l'importanza di questi video visto che ne parliamo praticamente in diretta tutti quanti lunedì sera alle 9 di queste uscite quindi diciamo che questi video diventano solamente una cosa veloce per vedere le copertine, le copertine dei fumetti e gli eventuali errori Signori, ecco a voi la scaletta, partiamo subito con i manga, poi passeremo agli americani un piccolo trigger contro le case editrici italiane, in generale non diciamo chi, non diciamo cosa un piccolo spoiler, Akira è stato fatto in una maniera spettacolare, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere e poi sul finale un pochettino di gadget e statue, quindi signori restate con noi perché è una giornata molto 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 intensa Eccoci ragazzi, partiamo subito, oggi sono un pochettino in piedi perché mi si sia scassata la sedia è stata veramente una settimana difficile, un sacco di pacchi in partenza, un sacco di pacchi in arrivo infatti ne aspettiamo un altro domani gigantesco ma non perdiamo tempo, non perdiamo tempo e iniziamo subito con le case un pochettino più piccole e poi ci spiega un po' di bombe Allora, la R.V. Goen è ritornata dal limbo in cui si trovava e ha fatto uscire contemporaneamente il numero 10 e 11 di Kissim Not Me Yaoi molto 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 simpatico, molto soft diciamo poi Due Come Noi che si porta al numero 37 e Kakegurui Circus numero 25 Adesso passiamo a J-Pop, J-Pop che presenta Rikudo numero 22 e Dead Tube numero 15 Gore molto molto carino anche questo qui Allora, vi ricordo ragazzi, purtroppo avevo dovuto fare il video un pochettino in ritardo quindi restate con le grafiche, ovvero alcuni fumetti potrei averli già venduti quindi potrebbero essere finiti perché ragazzi si sta mandando fortissimo infatti vi ringrazio tutti quanti gli amici di TikTok che acquistano per le dediche e tutto quanto quindi ragazzi veramente veramente grazie Adesso passiamo a Star Comics con To Your Eternity eccolo qui che si porta al numero 12 Detective Conan verso gli uomini in nero attenzione questa immagine anche molto chiara del nostro piccolo protagonista con alle spalle un uomo in nero mmm Grecky Conan Vietate Minori Ore Samatiche numero 29 poi Carl Captur Sakura numero 8 ragazzi fare questi video in piedi alla mia età e a quest'ora del mattino vorrebbe uccidermi Giorgio Lio numero 23 eccolo qui Jintama numero 69 e altro capolavoro per casa Star ecco a voi Le Ancient Magus Bride numero 13 finito con le novità Star adesso passiamo alla Panini Panini che anche questa settimana ci ha caricato di primizie di primizie alcune cose erano arretrate della settimana scorsa ma le presentiamo uguale visto l'incredibile mole di vendite che stanno avendo ragazzi autoconclusivo di Naoki Urasawa e Chu e lo so commenterete tutti con salute allora ragazzi ecco qua autoconclusivo a prezzo di 15 euro spendo qualche parola in più però poi andiamo velocissimo 15 euro lo so le pagine sono poche ma parliamo di alto potenziale parliamo di una grande carta a colori non so se notate e soprattutto non è tutto a colori ovviamente c'ha degli inserti a colori per farci vedere anche qualche pagina in bianco e nero soprattutto è bello a tatto è bello a tatto perché il tipo è lucidano ma è veramente molto 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 carino allora vi do un po' di statistiche è arrivato si vorrei arrivare mi sa 20 copie ne ho prenduto di tipo 18 sono rimasto solamente 2 18 in meno di un giorno quindi ragazzi veramente veramente venite a prendere le ultime copie perché questa è tosta allora Banana Fish che si porta all'ultimo numero eccolo qui con le sue solite pagine ingiolite Banana Fish numero 10 poi Zebra ragazzi Zebra non sentivo questo nome da almeno 3 anni Zebra che non so almeno che numero è numero 21 eccolo qui poi Arte numero 12 lo spin off di Seraph of the End numero 8 eccolo qui continua la ristampa di Spice and Wolf con questa versione The Luxe doppia che contiene 2 numeri ricordiamo la serie è conclusa e si concluderà con 8 numeri poi il nostro best seller Asadora ragazzi di questo abbiamo fatto anche una grandissima video recensione che vi consiglio di andare a vedere perché anche qui Urasawa si è veramente superato con questo romanzo seriale a fumetti il nome dice già tutto ragazzi è proprio un altro livello di manga poi The Gray Man 27 anche questo qui non si sa da dove l'hanno tirato fuori quelli della Panini cioè non usciva dal 1800 proprio poi Nane Kaoru Black Label numero 4 questa copertina che tutte le volte mi fa impallare Facebook mettendola come porno sempre infatti non riesco a caricarlo come prodotto poi dall'autore di Akamekakil ricordiamo che era uscita anche la versione bundle con il numero 1 e il numero 1 variant di Akamekakil e uscita ovviamente il numero 2 di mostruose bellezze Kaijin Reijou eccolo qua poi Slam Dunk si porta al numero 18 il grande Spokon che però l'ho messo storto infatti diceva qualcosa che non andava scusate ragazzi sono veramente molto provato poi un bello Yaoi che non fa mai male il mio dannato rivale che si porta al numero 5 ricordo che è ancora disponibile il numero 2 variant qui in negozio e per sapere tutte quante le disponibilità non c'è bisogno che rispondete o chiedete in chat basta andare sul link di sovraimpressione MangaCopixMarket e lì troverete tutte le disponibilità facile veloce motore di ricerca istantaneo c'è tutto il nostro magazzino poi ragazzi il continuo dopo che è nelle origini e mito esce finalmente che è nelle origini e mito e Genesis per chi non sapesse di che cosa sto parlando praticamente dopo che è nel guerriero che penso tutti voi conosciate uscì le origini del mito ovvero un prequel parliamo di prima dell'esplosione della guerra nucleare e quindi parliamo di un Giappone con le persone c'è nel senso un mondo normalissimo senza questa cosa della guerra e di tutto il resto e Nanto o Kuto che vivono la vita normalmente quindi lo abbiamo ai giorni d'oggi lo abbiamo con mentre dei giorni d'oggi è molto particolare e questo è le origini del mito che al momento è quasi introvabile infatti speriamo che ci stampano questo qui invece non ne ho la più palida idea perché è appena uscito lo devo ancora leggere e comunque è il nuovo capitolo di le origini del mito genesis quindi non è dopo che è in guerriero bensì è prima un prequel ok Nanna di Lurid che si porta al numero 20 eccolo qui e poi i best seller assoluti i cofanetti ragazzi sono disponibili sia pieni che vuoti voglio vedere se ne riesco a trovare uno vuoto si eccolo qui lo prendo subito eccolo qui la panini ha deciso di spedirlo in questo formato da montare in modo da non autodistruggersi visto che è vuoto non ha nessun tipo di sostanza stegno quindi comunque una bella idea esistono i cofanetti vuoti sia del primo blocco di 5 numeri che del secondo blocco il questi invece sono quelli pieni mettiamoli alla dritta i bloccano a 6 e 10 di attacco dei giganti a 24 euro e 50 secondo blocco di canning di berserk a 27 euro e 50 eccolo qui ragazzi anche questi qua stanno andando a rubare volevo fare una bella foto con una bella pila di berserk che ne ho presi 45 ma non la posso fare perché li ho veduti quasi tutti sono rimasti i cosette una cosa devastante ok signore adesso passiamo agli spillati li farò così misti perché la mia schiena mi sta veramente uccidendo allora Sandman che si porta al numero 12 eccolo qua tutto il suo splendore Wolverine a proposito vediamo anche di metterli in ordine visto che ci siamo uniamo l'utica diettevole eccolo qui il nostro Wolverine Justice League numero 10 lo so ragazzi sto mischiando DC e Marvel ma voglio cercare di fare i video il più velocemente possibile perché veramente stiamo lavorando durissimo per spedire il prima possibile le prevendie di Akira ah non ve l'avevo detto è bene sì ragazzi questa settimana è arrivato anche Akira ma ne parleremo dopo nel trigger che sta dopo gli americani quindi ragazzi attendete la fine del video allora Batman vs Superman numero 10 eccolo qui ah questo 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 è importante questo è importante con Matana il nuovo la nuova opera di Leo Ortolani parodia western in generale e scusate ma con l'acquisto di Matana prima edizione potrete avere anche il sottobicchiere edizione limitata ma che spettacolo il sottobicchiere da birra per un per un fumetto su western parodia western questa qua è una grande grande idea quindi signori questo qui ha solamente sei numeri ho appena uscire primo quindi potete completarla senza troppi problemi infatti di questa l'abbiamo presa un po' comunque la limited edition marauders che si porta al numero 12 eccolo qui e che cosa stai facendo tu qui ragazzi abbiamo avuto un piccolo problema è spuntato e cicciato adesso fuori un jpop che non era previsto The Killing Stalking numero 6 della stagione colgo l'occasione per far notare questo piccolo dettaglio che è cambiato rispetto agli altri da adesso in poi la jpop ha deciso di inserire un bollino di avviso per permettere ai genitori di capire se il fumetto può essere ben duro ai minori la panini già lo faceva con il codice a barre con una striscia sul codice a barre come potete vedere qui è gialla quindi vuol dire accompagnato da adulti o comunque con la supervisione jpop dopo 72 anni ha deciso di inserire questo bollino per i contenuti espliciti creando non poche discussioni perché comunque la diatriba sul vendere o meno questo prodotto al cliente che viene alla cassa è sempre stato un problema calcolandovi li hanno praticamente già visti tutti in scanno quindi vi lascio immaginare ma andiamo oltre andiamo oltre non sta a noi giudicare l'importante è che adesso il genitore può vedere che cosa sta comprando al figlio che comunque è già tanto justice league la guerra giustizia destino eccolo qui ricordiamo questo è il volume 5 quindi contiene justice league dal 29 al 39 sono le raccolte altro sandman che non ci interessa ma guardate quanto è bella la legione dei supereroi eccolo qui ragazzi anche questo qui è il secondo volume diciamo che con questo nuovo sistema della panini io personalmente non ci sto capendo niente voi mi dite ma perché perché non mi mette i numeri sulle costine non mettermi i numeri sulle costine mi mette veramente tanto in difficoltà perché metterli a posto si poi però quando vai a vedere quale va prima quale va dopo diventa un problema oltre che una grande perdita di tempo però vabbè a quanto pare la panini avrà le sue ragioni per farlo poi punish raccolò qui ragazzi contiene The Punisher del 1987 numeri dal 14 al 20 quindi anche questa è una raccolta Good Night Paradise questo qua veramente me lo volevo leggere questo me lo volevo veramente leggere ragazzi California omicidi un giallo thriller ma guardate che disegno guardate che disegno ragazzi ma di chi stiamo parlando questo qua è veramente tanta roba un bruciante leggo testualmente un bruciante giallo che esplora gli angoli più reconditi della società moderna scritto da Joshua Dissart lo scrittore del Boy disegnato da Alberto Ponticelli ragazzi quindi un italiano The Dark Knight e Annun Soldier con i colori di Giulia Brusco Django Django e Scalpe veramente grande ma questo non lo sapevo tanta roba guardate che bello questo disegno vabbè vabbè no dobbiamo muoversi questo qua poi ve lo leggo con calma perché secondo me è un capolavoro fatto 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 sicuramente mi sono dimenticato mille cose perché ne sono sicuro ma tanto abbiamo messo tutto quanto in grafica quindi non dovremmo esserci persi niente adesso signori passiamo al trigger ovvero quello che non è andato questa settimana signori eccoci qua signori allora che cos'è che non è andato questa settimana questa settimana non sono andate un po' di cosette non diciamo di che casa è perché se no la gente può pensare che andiamo ad additare sempre a dare sempre fastidio alla stessa casa editrice quindi non lo diciamo ma vi facciamo vedere l'opera in questione una delle opere più attese doveva uscire quattro mesi fa tre quattro mesi fa e sulle anteprime giornali dove escono le pari uscite continuavano a segnare le uscite dopo tipo a marzo le uscite numero tre di Aghira ma invece è uscito il numero uno quindi comunque già parliamo che è un'opera che è nata sotto il segno della sfiga ma andiamo oltre andiamo oltre allora pagina interna molto molto bellina pagina già ingiallita cioè te lo vendono già vecchio questo è sottile allora linguetta sopra copestinata in inglese in inglese è molto 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 carina e dall'altra parte invece in in giapponese in giapponese è veramente molto 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 simpatico tutto questo dopodiché andiamo a vedere andiamo a vedere tolta la tolta la sopra copertina possiamo notare la pagina a colori che è attaccata alla copertina è proprio incollata adesso un attimo vi faccio vedere meglio allora come potete vedere molto complesso è incollata cioè c'entra il mio dito non so se si vede è incollata solamente su questa parte quindi praticamente è proprio c'è solamente questo tipo di colla in questo punto cosa pressoché inutile non sappiamo a cosa serve forse per l'elasticità non sappiamo non sappiamo nemmeno perché non abbiamo stampato sulla pagina interna della copertina cioè non si sa proprio che tipo di opera anche che pure brutto cioè nel senso guardate come si presenta la sola copertina dovrebbe andare sulla copertina ma essendoci questa parte incollata crea questa situazione che è abbastanza disagiante perché non sappiamo se realmente è così sui forum su facebook o comunque tutti quanti i canali social la panini ha risposto con è così anche in giappone lavandosi le mani e facendomi riaffiorare alla mente una scena fantastica signori voi noi non abbiamo ancora il canale youtube quindi molti di voi non sanno questa cosa perché è una piccola chicca ma mi ha fatto riaffiorare una cosa bellissima che riguarda sempre la panini e parliamo di one punch voi mi direte c'entra questo con akira c'entra perché in giappone one punch man è stampato con la sola copertina invece che come in italia che è senza sola copertina e questo cosa comporta questo comporta che essendoci una sola copertina c'è anche una linguetta interna la panini questa cosa non l'ha capita e quindi che cosa ha fatto ha stampato la copertina e poi ha stampato nella pagina interna quella che doveva essere la parte che andava sulla linguetta interna e voi mi dire vabbè gialucca so mai so per forma per costo no no ma infatti avete tutti ragione l'unica cosa che la panini non ha capito che era molto importante oltre che molto bella e molto stilosa era che la sola copertina era fatta in questo modo perché era il continuo del disegno per esempio vedete in questo caso è un palazzo questa parte andava aperta così poggiando il fumetto in questo modo avevi non so se si vede poggiando il fumetto in questo modo avevi la parte che continuava come fosse un palazzo capite il fumetto diventava un piccolo palazzetto però non l'hanno capito cioè nel senso in realtà loro hanno tra le mani dei prodotti dei bestseller atomici però poi si perdono sempre in questa sorta di di inefficienza totale che non sappiamo per quale motivo perché non è che ci voleva tanto a capirlo l'hai visto cioè ci deve essere qualcuno che visiona le opere in giappo e poi le va a cambiare in italiano sicuramente un lavorone è difficilissimo infatti dei professionisti che ringrazio e che sono riusciti a portare comunque in Italia opere fantastiche però poi si perdono e ci fanno e ci rovidano queste piccole cose che questa è la figa questa è la figa proprio capito tu potevi mettere la cosa con l'angolo e c'era il palazzo che continuava cosa che One Punch Man ha fatto poi con le variant dopo non so se vi ricordate le variant che scorrono con la sopra copertina ed esce il disegno completo e a questo punto non li facevi tutti con la sopra copertina abbiamo visto che One Punch Man ci lavora con la sopra copertina a questo punto mi facevi tutti con la sopra copertina si lo so era più costoso e non è per il target shonen però perde questa cosa no veramente un peccato o allora non mi fai con la stampa interna non mi fai con la stampa interna così nessuno se ne sarebbe accorto tutti zitti e chi li va ma vabbè ma questa è un'altra storia signori abbiamo finito e adesso passiamo invece a un po' di gadget action figure eccoci qua ragazzi allora oggi un po' di boom action figure allora partiamo con qualcosa di piccolino però di qualità assolutamente altissima parliamo di questo zoro ragazzi che penso ci farò un video su tiktok perché merita tantissimo non so se si riesce a vedere mannaccia sto ring maledetto ma guardate che spettacolo ma quanto sta incazzato questo secondo me aperto in metrino è una figata va bene ma ce lo vediamo dopo ce lo lavoriamo separatamente poi abbiamo che cos'è il mio post che è impazzito un attimo di pausa lo mettiamo a caricare allora altre action figure questa volta invece che dal Giappone e dall'America ecco a voi visto che il Dark Knight Batman Metal sta scoppiando infatti come avete seguito nell'altro video che trovate qui sopra ci sarà l'uscita delle variant Metal tutte quante dedicate a le band rock più importanti tutte quante Batman con tutte se coperte fighissime ecco a voi l'action figure di Batman Metal con la falce vorrei solo farvi vedere dietro lui sulla moto e la falce che è una figata no questa cosa è veramente veramente figa molto molto Mad Max poi mi sono rientrati The Witcher che è una linea del teschio e Gerard che mi hanno detto potrebbe uscire la seconda la seconda stagione la seconda stagione del telefilm che a me è piaciuta ma non vorrei non vorrei creare creare odio però a me devo essere sincero è piaciuta parecchio è piaciuta parecchio come si chiama The Witcher e adesso signori il bambinone allora che cos'è questa serie di action figure allora questa serie di action figure è praticamente le versioni in bianco e nero dei grandi delle grandi opere delle grandi ecco qua delle grandi opere a fumetti fatte in action figure quindi signori andiamo per questo grandissimo unboxing ecco qua ragazzi io ci provo allora eccolo qui signori adesso abbiamo bisogno della nostra arma eccola qui allora andiamo a vedere togliamo un attimo il pelucetto e andiamo a vedere quest'opera d'arte ragazzi quest'opera d'arte allora io ho sempre adorato infatti ho sempre venuto i tantissimi di queste action figure perché sono le action figure in particolare cioè l'idea di trasformare l'idea di trasformare in action figure non un personaggio bensì proprio un un disegno che cosa sei sei bellissimo ragazzi un attimo ve lo faccio vedere subito ragazzi comunque parliamo di un action figure dal valore economico molto molto elevato quindi non stiamo parlando delle cosette da 40 euro infatti parliamo anche di una tiratura limitata a 5000 copie mi avvicino così lo potete vedere meglio lo potete ammirare meglio non so se si vede ecco qua ragazzi con le sue sfumature ma a parte che di una pesantezza non indifferente voglio vedere un attimo se riesco a spostare ah più che altro vi faccio vedere questa cosa qui infatti c'ha queste punte che poi mi 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 ragazzi non so se notate tiratura limitata per quest'opera che forse una delle più belle di Batman che ho mai visto guardate che spettacolo guardate che spettacolo ragazzi ma di che cosa stiamo parlando ma quanto sei bello cioè anche anche per gli amanti del anche per gli amanti solamente dei manga ragazzi questa è un'opera d'arte quindi signori lo so perché ci sono alcune persone che tipo odiano DC americano ma ragazzi questa cosa è troppo bella comunque per oggi è tutto grazie per averci seguito vi ricordo che adesso siamo anche su TikTok e vi ricordo che in zona rossa noi siamo sempre aperti e quindi per trovare i fumetti è abbastanza facile basta venerci a trovare e se non sapete dove siamo potrete sempre utilizzare il nostro radar per le sfere del drago funzionante quanto è figo sta cosa comunque signori anche per oggi è tutto oh aspettate mi sono dimenticato sono arrivate chissà quanti anni or sono anche i prodotti di Minecraft signori spada e piccone adesso ne va a spaccare tutto quindi signori penso ne avrebbero fatto vedere ogni cosa anche se non ne sono sicurissimo perché è stata è stato un video veramente particolare e adesso ritorno a fare i pacchi perché ragazzi non ci si ferma mai a torre dei maghi grazie a tutti continuate a seguirci e ci vediamo lunedì per vedere chi ha vinto la nostra variant di Censo Man 1 e soprattutto che cosa è successo e che cosa succederà poi martedì quindi signori ciao